Cari amici, cari amiche, buonasera a tutti e benvenuti a questo comizio di chiusura del ballottaggio di queste elezioni amministrative. Anche stasera ho preferito fare un comizio online per evitare assembramenti in piazza ed anche stasera siamo qui collegati e vi lascerò le ultime riflessioni di una lunghissima campagna elettorale. In questa campagna elettorale in realtà è successo di tutto, una campagna elettorale difficile anche e soprattutto per via dell'emergenza sanitaria. Oggi per esempio non posso abbracciarvi tutti come vorrei e dobbiamo chiudere questo nostro fantastico viaggio con questo nuovo strumento virtuale. Sentitevi tutti abbracciati singolarmente. Mi raccomando, domenica e lunedì andate a votare. È importante, utilizzate tutte le precauzioni possibili, ma non dobbiamo farci prendere dal panico. Il virus c'è, resterà per un altro poco, ma dobbiamo necessariamente vivere, convivere con questo virus e portare avanti la nostra vita quotidianamente. Domenica e lunedì muniti di mascherina, di igienizzante, mantenendo le giuste distanze, richiamoci tutte, tutti alle urne. Siamo arrivati all'ultima sera di questa campagna elettorale, di questo ballottaggio e voglio dirvi che sono orgoglioso. Sono orgoglioso della comunità che abbiamo creato. Sono orgoglioso di averlo fatto in mezzo a tutte le difficoltà che abbiamo incontrato. Abbiamo portato una nuova concezione di politica declinata come incontro di persone e di idee. Abbiamo rimesso al centro l'interesse dei cittadini e non le logiche dei partiti. Appare chiaro alla vigilia di questo turno di ballottaggio come sia evidente che il nostro è l'unico vero progetto civico, costruito da lontano, fatto di uomini e donne che pensano solo al bene della terra e che ringrazio per questi anni di incontri e dibattiti. Dall'altro lato è evidente la creazione di un finto minestrone a venti giorni dalla campagna elettorale, espressione di un modo di gestione del potere di uomini e partiti tradizionali che il tempo ha superato. Hanno fatto di tutto. Hanno detto di tutto e si sono inventati di tutto in questi mesi di campagna elettorale, come quella della nota azienda che finanzia la mia di campagna elettorale. Bufale, bugie, falsità solo per screditare quel ragazzo che ha conquistato la città, i quartieri, la gente e le folle. Abbiamo testimonianze di persone che ci hanno detto votiamo per voi ma preferiamo non dirlo perché ci spaventiamo. Perfino l'idea del nostro spot elettorale è stata presa di mira e ringrazio i ragazzi per lo straordinario lavoro fatto, al passo con i tempi, con una campagna elettorale che abbiamo impostato in modo dinamico e giovanile che non si era mai vista nella nostra città. Noi non ci vergogniamo di dire di essere una grande squadra, di essere una grande squadra civica, di persone perbene, di moderati e a tutti i moderati di questa città lancio l'appello ad unirsi a questo progetto senza alcun interesse personale o economico legato al nostro impegno. Noi siamo quelli che non hanno mai governato questa città, quelli che non hanno alcuna responsabilità sulle scelte amministrative della nostra città degli ultimi decenni. Oggi è facile dire faremo da parte di chi ha governato la nostra terra ma le cose andavano fatte quando ci hanno governato per oltre tredici anni e non annunciate solamente oggi in campagna elettorale. Stasera mi rivolgo ai democratici veri. Chiedo a loro di sostenere il cambiamento dello sviluppo e della solidarietà che Augusta attende. Sono orgoglioso di aver avuto accanto in questo percorso lungo che abbiamo fatto da tanto tempo insieme uomini e donne, come Peppe Cassisi, Peppe Daidone, Graziella Firrinceli, Paolo Trigilio, Maurizio Blandino e tanti altri legati a me dal modo di concepire i temi sociali, attenti ai diritti civili, rispettosi del confronto democratico, perché va scelto il sindaco più coraggioso, più determinato, più autentico, più libero. Abbiamo riportato le idee, il programma finalmente al centro della buona politica, perché la politica è servizio, ma soprattutto senza una visione di futuro non è politica. E noi siamo stati gli unici a parlarvi di futuro. Abbiamo tracciato una strada per Augusta Futura ed in questi ultimi giorni vi invito ancora di più a leggere i programmi elettorali. Il nostro, un programma corposo, ambizioso è stato definito. Abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, legato ai bisogni della città, che guarda al futuro. Sul programma dei nostri amici avversari, abbiamo letto solo parentesi che si aprono e si chiudono, in modo veramente imbarazzante. Mi ha colpito, in questa campagna elettorale, l'affetto delle persone. Quelli del quartiere dove sono nato, cresciuto e dove vivo, li davo per scontato. Ma anche quelli di luoghi che frequento di meno, mi hanno imbarazzato, mi hanno dato tanto entusiasmo, mi hanno dato tanta forza, mi hanno fatto capire che il percorso era quello giusto. Mi siete stati accanto in tanti ed io vi ringrazio di cuore. Oggi prendo con la città, oggi prendo con tutti voi un impegno solenne. Da martedì, da sindaco, riparte il 100% tour. Da sindaco verrò a trovarvi personalmente. Resterete stupiti da questo sindaco che frequenterà la strada, le piazze, le attività commerciali, quelle imprenditoriali, anziché chiudersi dentro palazzi e poltrone. La politica per noi è responsabilità ed è per questo che abbiamo intrapreso questo cammino accanto ai cittadini. Perché con loro vogliamo cambiare Augusta. Mi presenterò in Consiglio Comunale con il nostro programma ed ognuno si assumerà le responsabilità con la città. Dinanzi ad atti e progetti per Augusta abbiamo il dovere di lavorare tutti insieme per cambiare la nostra terra. Vi assicuro che la maggioranza di moderati e persone per bene c'è e cambieremo la nostra città mettendo in disparte chi vuole gestire la cosa pubblica per interessi personali. Io sarò il sindaco di tutti, con tutti mi confronterò, parlerò, con tutti ci sarà sempre un dialogo. Ho consumato tante scarpe in questa campagna elettorale, mi avete visto un po' dovunque. Insieme a voi ho scoperto, ho preso consapevolezza che c'è qualcosa di grande tra di noi. Per citare una famosa canzone di Cesare Cremonini che unisce le nostre storie. Non si tratta di un interesse particolare, non è neanche l'orgoglio di ottenere dei risultati, non è neanche la presenza di un uomo o di una donna carismatica, ma quello che ci tiene insieme, che ci fa comprendere e condividere una serie di valori è l'idea che noi non saremo mai quelli che si spingono fino ad impaurire gli altri pur di prendere un voto. Noi non saremo mai quelli così attaccati egoisticamente al passato dal voler mettere a repentaglio il futuro. Noi siamo e resteremo per sempre una comunità di persone coerenti, che ha fatto un percorso limpido, lineare, fino all'ultimo giorno, che non ha mai cambiato idea su questo viaggio, sui compagni di questo viaggio, che se la giocherà fino all'ultimo voto, pensando che si debba fare politica sulla proposta, sul coraggio, sulla speranza. Nelle schede elettorali domenica e lunedì troverete due mondi. Da un lato quelli del dobbiamo vincere a tutti i costi, senza se e senza ma, con tutti gli strumenti, e dall'altro ci siamo noi. Quelli che le elezioni le abbiamo già vinte, per un percorso che abbiamo fatto con i cittadini lineare, coraggioso e coerente. Sentiamo forte la necessità, oggi più che mai, dopo l'esperienza che stiamo vivendo dell'emergenza sanitaria, di rimettere al primo posto gli interessi di tutta la comunità, dando priorità e attenzione a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione. Il nostro obiettivo è quello di rendere Augusta una città vivibile, solidale e a dimensione umana. La famiglia costituisce per noi il centro della società e occorre mettere in atto tutti gli interventi necessari per tutelarla e salvaguardarla. Il nostro scopo è quello di creare una forte sinergia con la famiglia, non solo genitori e figli, ma anche nonni e nonne, custodi di conoscenza, amore e tempo. Lavoreremo intensamente a misure di equità familiare nella fiscalità, attraverso l'introduzione di misure specifiche per le famiglie con figli numerosi, con disabili a carico, con neonati, con bimbi in età scolastica e per quelle che assistono anziani. Augusta è la città del mare, delle saline, dei pescatori. Le testimonianze degli anziani non vanno perdute, ma devono diventare uno strumento di formazione e di orientamento per le giovani generazioni. Insieme a un piano di incentivi, atto a ripopolare il centro cittadino, daremo vita ad un rilancio dell'offerta culturale nelle vie della nostra città, per renderla viva in ogni angolo. Eventi, concerti, isole pedonali e tanto e tanto altro. Riporteremo il mercato giornaliero in modo ordinato e pulito nelle piazze del nostro centro storico, per riaccendere ogni singola via della nostra città. Lo stesso mercato del quartiere Sacro Cuore sarà regolamentato e ricollocato nella sua postazione naturale. Il compito della nostra amministrazione pubblica sarà quello di raggiungere il benessere di ogni membro della comunità, garantendo tutte le misure necessarie per la tutela della salute fisica e psicologica e rendendo Augusta completamente accessibile a tutti i cittadini. Non dovranno esistere ostacoli per vivere in ogni angolo della città. I trasporti pubblici saranno rivalutati e riprogrammati. Particolare attenzione sarà posta ai collegamenti con l'ospedale e con il cimitero. Tra i nostri prioritari obiettivi ci sono l'utilizzo di mezzi a basso consumo, a basso impatto ambientale, dotati di tutti gli strumenti necessari per far salire a bordo anziani e sedi a rotelle con facilità e con l'introduzione di tariffe agevolate per le fasce deboli. Lavoreremo anche per creare uno sportello unico per la disabilità, dove i cittadini potranno ottenere informazioni di ogni genere. Con la collaborazione di tutte le forze a cui è affidata la sicurezza sociale, il nostro compito sarà quello di potenziare tutti gli strumenti necessari per raggiungere l'obiettivo. Aumenteremo la dotazione e le risorse disponibili della Polizia Municipale. Installeremo telecamere nei punti ritenuti nevralgici. Porremo in essere un progetto che miri al miglioramento dell'illuminazione pubblica cittadina e programmeremo eventi nei vari quartieri della città, con la consapevolezza che eliminare spazi vuoti significa diminuire il degrado e l'abbandono. Attraverso una nuova programmazione di pianificazione urbanistica uniremo tutte le parti della città, eliminando la contrapposizione tra Augusta Isola, Borgata, Monte, Brucoli, Agnone, Castelluccio, con l'obiettivo di far sì che la qualità della vita sia ottima in ogni territorio della città. Da via Mocenigo fino ad Agnone, passando per Brucoli, il Monte, Castelluccio, il San Leonardo e tutte le altre zone della nostra città, è necessario predisporre un progetto che miri alla tutela dei cittadini. Strade sistemate, scorrevoli, tutto deve tornare alla normalità. La tutela dell'ambiente e dei cittadini sono punti al primo impegno che noi prenderemo con la nostra città. La concentrazione di una parte così numerosa della popolazione augustana nel quartiere Monte richiede una presenza più vicina delle istituzioni. Attraverso la creazione di uffici comunali decentrati, veri e propri centri amministrativi nei quali offrire tutti i servizi ai cittadini residenti della zona. Alla protezione civile vanno dati tutti i mezzi e gli strumenti necessari per operare nel miglior modo possibile. Nel contesto della tutela della salute dei cittadini non si faranno passi indietro sulla qualità dell'aria e dell'acqua. Il controllo della qualità dell'aria attraverso tutti gli strumenti deve essere effettuato senza alcuna remora. Dobbiamo assicurare un costante monitoraggio delle emissioni di sostanze nocive nell'ambiente, con conseguente chiare campagne di informazioni sullo stato di salute dell'aria alla popolazione. Entro tre mesi dall'insediamento della mia amministrazione daremo vita ad un osservatorio permanente sulla salute nella città di concerto con altri enti e utilizzando i dati della recente ricerca epidemiologica dell'ASP di Siragusa, con i dati legati al registro tumori sulle popolazioni nella provincia di Siragusa. Il presidio ospedaliero Muscatello rappresenterà un baluardo della nostra amministrazione, certi oggi più che mai che al nostro nosocomio vanno riconosciute tutte quelle criticità dell'aria in cui ricade. Bisogna lavorare insieme per il raggiungimento di un modello di struttura sanitaria proiettata verso il futuro della medicina moderna, incentrata sulla persona, sulla prevenzione, sul territorio, sulla continuità assistenziale delle cure, casa, ospedale e con tempi certi di accesso alle prestazioni specialistiche, garantendo un servizio pubblico adeguato alle malattie per le quali è richiesto. Siamo convinti sostenitori che il nostro ospedale deve diventare un centro di eccellenza oncologica per porre fine ai viaggi di speranza e molto più per dare le giuste risposte a un territorio che tanto ha sacrificato. Fondamentale è anche pretendere tutte quelle misure di prevenzione che devono portare il nostro ospedale a diventare centro specializzato nelle prestazioni sanitarie oncologiche. Sul nostro cimitero dedicheremo attenzioni per il luogo che deve essere un luogo di silenzio, di preghiera e di dolore che deve essere riportato ad una dignità normale. Verrà istituita la settimana dello sport, un appuntamento da organizzarsi ogni anno durante il mese di giugno nella villa comunale, dedicata a tutte le associazioni sportive della città che in quell'occasione potranno illustrare le proprie iniziative, i traguardi raggiunti e premiare gli atleti più meritevoli. Le attenzioni massime saranno dedicate a Brucoli e a tutto il suo territorio. Istituiremo la delega assessoriare per Brucoli e per tutte le aree balneari poiché abbiamo la consapevolezza che la valorizzazione e la fruizione di queste aree può far crescere investimenti e risorse per la nostra città. L'estate augustana per questa amministrazione dovrà diventare il centro di tutte le associazioni culturali presenti in città e dovrà essere presente in tutte le zone della città per far sì che nessun luogo venga né dimenticato né abbandonato. Vogliamo realizzare un programma artistico e culturale ricco di eventi da maggio a settembre per allietare e riempire i nostri luoghi cittadini e far diventare Augusta e il suo mare meta di visitatori e turisti. Ripensare Augusta vuol dire ripartire dai suoi elementi principali che sono il mare e la sua costa. Occorre realizzare nuove politiche di tutela e valorizzazione. Riteniamo fondamentale che la nostra città si riappropri della sua più autentica vocazione balneare. Per questo motivo sarà impegno quotidiano di questa amministrazione la depurazione delle acque e reflue che permetterà in breve tempo di rendere balneabili il golfo di Brucoli e l'Oxifonio unitamente alla pulizia puntuale costante di tutto il litorale. Verrà messo in atto un vero e proprio piano delle coste con il miglioramento della scarsa fruibilità attuale che permetterà grazie alla messa in sicurezza l'apertura di molti tratti di scogliera attualmente interdetti alla balneazione. Ci aspetta un lavoro enorme che siamo convinti insieme a tutti gli uomini di buona volontà di questa città e insieme alla squadra di assessori che abbiamo proposto alla nostra Augusta di poter realizzare. Devo dire tante grazie alla fine di questo lungo percorso per la pazienza, la fiducia, la disponibilità con cui mi avete sommerso e per la vostra stima nei miei confronti. Grazie di cuore a tutti, alla mia famiglia, ai miei amici, alle ragazze e ai ragazzi del mio staff, alle forze dell'ordine, al gruppo dirigente con cui ho condiviso ogni scelta, ai miei assessori, ai miei candidati al Consiglio Comunale, ai miei amici che mi sono stati accanto, ai coordinatori dei movimenti civici, a chi ha curato le riprese di questi comizi online, a tutti voi che ci avete creduto, supportato e sopportato. Grazie anche a te che con il tuo sorriso, con una stretta di mano, con il tuo incoraggiamento mi avete invitato a continuare in questa impegnativa sfida per il futuro di Augusta. Cari augustani, care augustane, se volete tornare indietro nel tempo non votate per noi, se volete votare vecchi sistemi amministrativi non votate per noi, se volete votare l'improvvisazione non votate per noi. Noi non abbiamo da offrirvi altro che la nostra serietà, altro che la nostra correttezza, altro che la nostra solidarietà. Noi vi offriamo questo. Io sarò sindaco 24 ore al giorno senza alcuna sosta. Ecco la sfida generazionale. Da un lato i professionisti della nostalgia del passato, un'alleanza innaturale, capace di raccontare un film che è un remake di un passato amministrativo di cui nessuno ha nostalgia. Poi ci siamo noi, quelli dell'appartenenza ad una comunità, dell'identità valoriale, una nuova generazione con idee concrete e progetti specifici. Nel tempo della tecnologia, di distanze che si accorciano, di un mondo che va sempre più veloce, non possiamo permetterci di tornare indietro. Perché c'è un futuro per Augusta. Andiamo a vincere!